In molte realtà italiane le pediatrie sono messe a dura prova dall'epidemia di infezioni respiratorie nei bambini, specie le bronchioliti da virus respiratorio sinciziale. Se ciò si somma alla contemporanea circolazione di altri virus respiratori, la situazione risulta in alcuni casi davvero difficile, con accessi record in pronto soccorso e situazioni di congestione in ospedale. A rilevarlo è la società italiana di pediatria che ancora una volta insiste sulla necessità di rafforzare l'anello debole dell'assistenza pediatrica, ossia le terapie intensive pediatriche, poche e mal distribuite sul territorio nazionale, con a contempo un numero sproporzionato di punti nascita rispetto ai bambini che nascono. Di questo e molto altro si è discusso a Matera durante il convegno le sfide della prevenzione in età pediatrica. La situazione è attenzionata adesso perché dopo il periodo covid in cui noi avevamo visto meno infezioni virali circolari, proprio perché c'era il covid ci sono state le misure di distanziamento eccetera, adesso invece riprendono queste infezioni e quest'anno noi stiamo registrando dei dati molto importanti che riguardano appunto queste infezioni respiratorie e in particolar modo quella da virus respiratorio sinciziale che colpisce i bambini molto piccoli in genere un anno di età e che è anche motivo di tanti accessi al pronto soccorso, tanti ricoveri e ahimè anche ricoveri in terapia intensiva. C'è poi la necessità di garantire a tutti i minori il diritto alle cure pediatriche sino a 18 anni sia sul territorio che in ospedale senza differenze legate alla regione in cui si nasce e si vive. I primi passi in questa direzione sono l'integrazione e la continuità dei percorsi di cura tra ospedale e territorio ma già adesso il numero di specialisti in pediatria non è sufficiente per mantenere l'attuale sistema. Un gap destinato ad aumentare nei prossimi anni nonostante la riduzione della natalità e il recente aumento del numero dei contratti per le scuole di specializzazione in pediatria.